24 di agosto, caldo tremendo, porcini niente, anche se già lo sapevo che non ci sarebbero stati, però scappottiamo con ovolo, eccolo e poi dicono che al centro sotto non ci sono funghi, ci sono ovuli, ci sono ovuli, ma dopo questi due ovuli li dedico a Marco ecco tre ovoli in tutto va bene alla prossima tornando a casa altre due sorprese questa la prima ha fatto pure croc un ovulo un po vecchio e poi c'è la seconda sorpresa che è molto più bella eccola guardate che bello ovulo oppure ovulo come lo chiamo guardate che bello che croc va bene altri 50 metri e sono la macchina la macchina è di là dietro il capannone va bene alla prossima